Eccoci qui, si riparte tante novità, tanti giovani, tanto entusiasmo, tante difficoltà già da oggi che l'avversario si chiama Brescia ma sempre con questi colori addosso, questi colori immortali della Lazio, quelli della speranza Buon pomeriggio e benvenuti al Foro Italico per l'incontro della prima giornata stagione 2016-2017 tra Lazio Nuoto e Brescia Cristian Persiuti, a tu per tu con Correggia ed è 1-0 Brescia La conclusione di Zeno Berkley, 3-0 Brescia Prendiamo questo primo tempo 0-3 ma con dei buoni ritmi, soprattutto nella fase di difensiva e di contropiede C'è Mele per Giorgi, il tiro di Giorgi! E' il primo gol della stagione, lo dica proprio l'est difensore del Brescia Daniele Giorgi, 3-0 Brescia, prende il fondo Ancora Giorgi, braccia alzate, è il tiro! A specchio, è il gol! La palla è strada, 3-2 Lazio! A Pallero Rizzo per il 4-2, torna più due il Brescia E va da Rizzo, si appoggia in questo caso la Paskovic Grande movimento dell'acquisto preso dal Galatasaray che con una torsione di busto riesce a infilare Correggia, 5-2 punteggio Dunque più 3 Brescia, nuovo massimo vantaggio per gli ospiti Palla lunga per Vitale che ha un minimo di spazio Prova, uno straordinario assist per le Corale Questa è la palla nuoto che ci piace Sere di passaggi Va alla conclusione Alla fine Paskovic Ancora De Vena Ma che bello! William De Vena, 6-4 E Correggia che riesce a difendere il pallone Non c'è, non c'è pallo, fischiato E viene dato il gol A Cristian Antonitano Lo torneremo tra pochissimo, 7-4 al punteggio Nicola Spreciutti si alza Vada a Fadello, Cristian, una deliziosa palomba 8-4 Arriva la conclusione di Rizzo, 9-4 più 5 Brescia La conclusione Di Randelovic Tocca Le braccia, le dita di Correggia Non basta 10-4 Intanto il tiro di Rizzo E allora adesso Nicola Spreciutti Che vede Bertoli avanzare C'è invece la conclusione ancora di Rizzo 12-4 Candela La conclusione arriva adesso Quinto col della Lazio Scambio di battute con Manzi Giovani battute Esce Washburn C'è il rischio di travolgere tutti Un'uscita calcistica E fa la cannella E dove siamo in 3 contro 2 davanti Andiamo se William riesce a servire Washburn va a lungo Da mele E c'è un tiro di rigore guadagnato ancora Grande Washburn C'è Tulli dai 5 metri la parata però Di Moretti 3 contro 2 Paskovic per il 13-6 Finisce il 13-6 Buona Lazio Abbiamo bisogno senza ombra di dubbio di tempo Per far crescere chi ha poca esperienza E soprattutto amalgamare ancora di più la squadra Ai ritmi di gioco che vengono richiesti dal tecnico Grazie Yamato Grazie a tutti Chi si ma Seguima Per far crescere chi si ha il ruoto